Se lo aggiudica in Lanciano l'anticipo della settima giornata di andata del campionato di Serie C Gold, al Palasport i ragazzi di coach di Tommaso piegano soltanto all'ultimo quarto la resistenza di una Coriacea Teate che per larghi tratti di gara ha tenuto testa all'Uni Basket rispondendo colpo su colpo a tutte le iniziative dei locali. Partita giocata su ritmi e punteggio molto alti con la vittoria che va ad arricchire la classifica dei rossoneri trascinati dallo straripante capitano Munich, 24 i punti per il centro di casa, che ha trovato il fondamentale sostegno dei compagni Comollo, 20 centri, Maralosso, da bandata, 18, Lachic, 15. Un successo importantissimo e fortemente cercato dal club di casa che teneva in maniera particolare a riscattare lo sfortunato passo falso di una settimana fa in casa della capolista Amatori. Una partita interessante, ricca di capovolgimenti di fronte, con vantaggi continui da una parte e dall'altra, con l'ultima frazione di gioco che si è aperta nel massimo dell'incertezza ma che ha visto prevalere i frentani. È finita 92 ad 83. Prossima partita a Di Sernia per la sfida alla New Fortitude il presidente Valentinetti. Sono soddisfatto del risultato, chiaramente mi aspettavo un po' di più dalla squadra perché nei primi tre quarti è vero che abbiamo avuto delle buone percentuali e così via ma abbiamo subito troppo. Abbiamo subito troppo, abbiamo chiaramente ruotato anche poco, quindi questo insomma non mi dà molta soddisfazione. Per il risultato sono contento, soprattutto l'ultimo quarto la reazione dei ragazzi che è stata abbastanza buona. Possiamo dire che questa squadra non è più una sorpresa ma si attesta nelle zone alte della classifica come una realtà sempre più ambiziosa? Sì, a noi piace stare in queste posizioni come tutte le squadre. Chiaramente ci teniamo anche molto al progetto, il progetto che abbiamo, quello di crescita dei ragazzi. Noi speriamo chiaramente di allargare e di poter far giocare tutti i ragazzi, anche tutti i ragazzi del settore giovanile perché chiaramente noi ci investiamo e abbiamo necessità che questi ragazzi escano fuori nel più breve tempo possibile. Allora Antonello, al di là del risultato oggi strettamente tecnico, l'Unibasket è una realtà importante di questa città, si sta assestando nel tessuto sociale e tante collaborazioni in passato e tanti nuovi progetti anche in cantiere nei prossimi mesi. Sì, sicuramente sta andando avanti questo nostro bel progetto, come diceva anche il Presidente, di portare avanti i giovani. La squadra ha un'età media molto bassa, andiamo molto bene, siamo contenti soprattutto per questo perché stiamo crescendo. Altro punto importante per noi è proprio il minibasket, siamo partiti dai più piccoli, stiamo rafforzando sempre di più questo settore anche grazie all'insedimento del coach Barbuto e stiamo avendo ottimi risultati, anche tanti bambini che vengono, sono contenti di venire a giocare a pallacanestro. Il nostro progetto ovviamente si vedrà un po' alla lunga, non è una cosa nell'immediato, però ci stiamo lavorando. Un primo passo è stato anche quello di andare qualche settimana fa in comune per fare la conoscenza del nuovo sindaco, ma anche per ricevere due targhe premio per i due campionati giovani li vinti lo scorso anno dall'Unibasso. Sì, in effetti sì, adesso c'è anche una nuova collaborazione con l'amministrazione, abbiamo dovuto farci subito conoscere, anche per stabilire dei rapporti proprio di collaborazione anche per il futuro. Nel nostro futuro, nel nostro progetto c'è anche un campo nostro, trovare una soluzione per avere più campi, più disponibilità, specialmente per i bambini che ne sono tanti e hanno bisogno di tante situazioni. È importante avere un bel rapporto con la città, con l'amministrazione, anche per poterci aiutare a vicenda. Noi svolgiamo anche un ruolo sociale fondamentalmente, specialmente per i più piccoli, di coesione, di aggregazione, ma anche di sport. Ricordiamo anche che quest'anno abbiamo fatto tutta l'iscrizione per i bambini e per l'anno sportivo gratis.